E il leader della difesa Fidelis, Nicolò Doni, da trovare all'ultimo respiro il tocco giusto per i tre punti nel derby contro il pericolante Bitonto. L'attaccante ha giunto Biancazzurro, Scardina, l'attenta difesa ospite, parsa decisamente più in palla rispetto all'ultima uscita a Casalinga contro la Gelbison. Ma non basta per uscire indenni dal degli Ulivi in una sfida in cui la squadra di Loseto, uno dei tanti ex del match, 10 nel complesso tra le due squadre, fa esordire il portierino Civita Andriese di nascite, protagonista già nello scorso finale di stagione. Inedita difesa a tre per il Bitonto, con Prinari spostato a centrocampo e figlio lì a Palazzo in avanti. Dall'altro lato conferme per Scaringella il suo 4-3-3 con Giambuzzi, Jefferson e Strambelli in avanti. Draga a sostituire lo squalificato Padalino in difesa, nuova opportunità per Quittadamo e Telera dal primo minuto. Inizio a ritmi bassi, anche per il primo caldo di stagione. Strambelli illumina per Giambuzzi, decisivo l'intervento di Civita in uscita, ma azione ferma per l'offside dell'esterno andriese. Azione insistite in aria per Jefferson, che non trova il tempo per la battuta a rete. Palla su Giambuzzi, che prova l'acrobazia, palla facile tra le braccia di Civita. Ci prova anche Strambelli, direttamente sul calcio di punizione. Attento, ancora Civita a respingere in tuffo. Non ce la fa Jefferson, costretto invece al cambio forzato dopo un contrasto di gioco. Scaringella in campo al suo posto. Giambuzzi si mette in proprio e calcia a rete da circa 20 metri, ancora attento Civita. Sempre Giambuzzi, calcia alto dopo un'azione in verticale rifinita da Scaringella, ma poco oltre la mezz'ora la sbloccano i padroni di casa. E Quittadamo a inserirsi in aria con i tempi giusti, sterzata su Gianfrede, il difensore che ferma con le cattive, il centrocampista andriese. E penalty per il direttore di gara, che non ha dubbi. Glaciale dal dischetto Nicola Strambelli, che segna il suo settimo gol in campionato, il nono complessivo, in una stagione in cui spicca comunque il numero clamoroso di assist, 18 del capitano Fidelis. Tarda la replica del Bitonto, che arriva solo allo scadere, con una sponda di figliolia per il tiro di palazzo alto. Nel finale di primo tempo, problemi fisici per Telera e Cecere, entrambi tornano sul terreno di gioco per l'inizio della ripresa, ma il difensore andriese deve lasciare subito il campo dopo il primo scatto. Al suo posto si rivede Silvestri sulla via del completo recupero. Preme allora la squadra di Loseto, che entra con il piglio giusto. Il tiro cross di Tangorre non trova nessuno pronto per la deviazione decisiva. Deviazione che arriva invece alle spalle di Baglietti, poco oltre i cinque minuti di gioco da parte di Gianfreda. Tocco decisivo del difensore in porta dopo un'azione tambureggiante in cui la Fidelis non riesce a cacciare fuori la palla dalla propria aria. In campo ci va anche Varsi subito e Silvestri a sfiorare però il nuovo vantaggio con un colpo di testa che Civita è bravo a neutralizzare anche sull'arrivo di Donida. Azione tutta di prima della Fidelis con Scaringella a calciare Mancino fuori dallo specchio, ma da ottima posizione. Tanti cambi da un lato e dall'altro. Varsi colpisce di testa a metà tra un tiro ed un cross nel finale. Occasione d'oro per i padroni di casa su di un calcio di punizione di Strambelli. Il tocco del neo entrato russo che Civita devia in fallo laterale, preme la Fidelis. Varsi si gira in un fazzoletto e calcia a rete, palla di un soffio sul fondo. In campo ci va anche Bottalico, Fioretti dall'altro lato tira dal limite. Attento Baglietti ma i padroni di casa nel cuore del recupero fanno le prove generali del gol con l'attaccante aggiunto. Nicolò Donida colpo di testa sugli sviluppi di un corner e salvataggio sulla linea, questa volta di Ventola. Al quarto di recupero poi spacca a metà la difesa ospite l'incursione di Bottalico a destra. Tocco vellutato e Donida la mette alle spalle di Civita ribadendo in gol due volte il pallone. Gioia degli Ulivi per il secondo gol in campionato. Del difensore sempre più leader di questa squadra non c'è più tempo. La Fidelis conquista il ventesimo punto nelle ultime otto gare di gestione Giuseppe Scaringella con sei successi e due pareggi. Ipoteca i play-off e attende il match contro il Matera a domicilio. Per il Bitonto invece missione play-out sempre più complicata. Quarta sconfitta consecutiva, vittoria che manca da inizio febbraio e domenica prossima sarà sfida a Casalinga alla lanciata palmese.